In questo video ti mostrerò i migliori smartphone sotto i 150 euro attualmente disponibili su Amazon e ti aiuterò a scegliere il mio modello in base alle tue esigenze. Ed eccoci qua su Amazon ragazzi, dunque in questo video andremo a vedere uno ad uno questi tre modelli che sono rispettivamente i migliori a livello di qualità prezzo per quanto riguarda la fascia dei 150 euro. Attualmente questi tre modelli sono nettamente migliori rispetto a quello che gli altri smartphone possono offrirvi su questa cifra e con questo intendo ovviamente se andremo a paragonare il display, il processore, che ovviamente sono le parti più importanti, ma anche la batteria e la fotocamera. Direi quindi di partire subito col primo modello ovvero il Samsung Galaxy A15. Direi di partire come sempre dal suo display, in questo caso monta un ottimo AMOLED con una perfetta riproduzione dei colori. che tendono a essere molto accesi e molto vividi, dando appunto un'ottima immagine. Inoltre anche una risoluzione perfetta per questa grandezza, ovvero una full HD+, e un refresh rate che si ferma a 90Hz. Sicuramente molto meglio di un classico refresh rate a 60Hz, ma purtroppo non arriva al 120Hz come capita appunto a volte in altri modelli su questa fascia. Molto buona anche la sua luminosità massima, è davvero molto elevata e questo ci permette di poter utilizzare anche sotto il sole d'estate senza avere appunto alcun problema di visione. Molto buoni anche i suoi tempi di risposta, quindi perfetto per visualizzare film, video, magari videogiochi, insomma contenuti con molto movimento sullo schermo, senza creare appunto alcuna sfocatura e garantendoci quindi dei movimenti fluidi e realistici. Passiamo ora alle sue prestazioni come processore monta Ometech Helio G99. Questo processore è molto buono per questa fascia di prezzo, infatti lo smartphone non mostra alcun rallentamento nell'utilizzo quotidiano, come può essere messaggistica, email, social o video. In ogni caso può mostrare qualche rallentamento in qualche situazione, ad esempio se dobbiamo caricare una pagina web molto pesante, oppure quando la RAM sta cominciando a riempirsi e magari abbiamo appunto più app aperte in contemporanea i multitasking. Per quanto riguarda il gaming è tranquillamente utilizzabile, ma ovviamente con i giochi più pesanti e con impostazioni grafiche alte, può mostrare qualche rallentamento come ad esempio in PUBG o in Genshin Impact. Passiamo ora al reparto delle fotocamere, monta un sensore principale da ben 50 megapixel. I scatti sono molto buoni per questa fascia di prezzo, è tranquillamente utilizzabile e la qualità è decisamente migliore in condizioni molto buone di luce. Quando invece la luce scarseggia, diciamo che la qualità tende a diminuire, ha una sua ammolità notturna per aiutare, ma ovviamente non fa miracoli. Monta anche una grandangolare a 5 megapixel e una macro a 2 megapixel. Diciamo che i risultati non sono molto buoni, come capita praticamente in tutti i smartphone, diciamo, di questa fascia di prezzo. Ma non è un problema, visto che non verranno praticamente mai utilizzate, se non il sensore principale e la fotocamera frontale appunto per quanto riguarda i selfie. Per quanto riguarda quest'ultima, la qualità è piuttosto buona. Arriva infatti a 13 megapixel e possiamo utilizzarla tranquillamente anche per fare videochiamate. Per quanto riguarda l'autonomia, monta una classica batteria da 5000 mAh, con il quale potremo arrivare tranquillamente fino a sera con una sola ricarica. Supporta anche una ricarica rapida, ma rimane ferma a 25 watt, quindi è decisamente più veloce rispetto a una ricarica tradizionale, ma allo stesso tempo come ricarica rapida non è altissima. Xiaomi Redmi Note 13, che attualmente si trova intorno ai 150 euro. A questo prezzo è davvero molto buono ed è ottimo sotto diversi aspetti. Devi partire come sempre dal suo display, dove mostra sicuramente i suoi punti di forza, esattamente come il modello scorso, ovvero il Redmi Note 12. Prima di tutto abbiamo un ottimo display tipo AMOLED, con una luminosità massima molto alta, che arriva a circa 1800 nits. Questo quindi lo rende perfetto in qualsiasi situazione, anche fuori casa, sotto il suolo e coccente d'estate, sarà perfettamente visibile. Allo stesso tempo è perfetto anche al buio, dato che ha un ottimo contrasto, quindi in stanze poco illuminate o completamente al buio, il nero sarà perfettamente profondo e non avrà il brutto effetto grigiastro che normalmente troviamo negli LCD. Allo stesso tempo ha un'ottima risoluzione Full HD+, per avere immagini belle definite e nitide, senza alcun effetto pixelato che normalmente troviamo in molti smartphone economici, anche su questa fascia di prezzo. E allo stesso tempo abbiamo anche un refresh rate da 120Hz, per avere ovviamente una maggiore fluidità. Insomma un display ottimo e perfetto su tutti quanti gli aspetti. Allo stesso tempo ha anche una buona riproduzione dei colori, questi tendono a essere naturali e anche un ottimo angolo di visione. Questo è importante per visualizzare perfettamente lo smartphone, non solo frontalmente ma anche di lato e dagli angoli, quindi se ad esempio lo abbiamo appoggiato sulla scrivania, potremo vedere perfettamente lo schermo senza alzarlo e guardarlo. Allo stesso tempo è anche importante, se vogliamo magari far vedere un video al nostro amico o più persone, tutte le persone lo vedranno perfettamente, non solo quelle frontalmente. Buono anche il suo tempo di risposta, perfetto quindi per visualizzare video, film, serie tv, dove c'è molto movimento sullo schermo, senza che questo lasci sfocature sullo schermo. Quindi tutti i movimenti sanno realistici e senza alcuna sfocatura. Diciamo quindi che per quanto riguarda il display attualmente è impossibile trovare di meglio. Passiamo ora alle sue prestazioni, come processore monta uno Snapdragon 685. Questo processore è molto buono per questa fascia di prezzo, diciamo che è superiore alla media, nonostante sia molto economico, non è comunque un processore lento che causa notevoli lag, ma allo stesso tempo non è anche iperfulminio. In ogni caso per un utilizzo quotidiano come navigazione web, social network, email, è più che rapido e perfettamente utilizzabile. Per quanto riguarda invece i videogiochi, che ovviamente richiedono più potenza, non è il massimo, ad esempio in PUBG potremmo giocarci a dettagli bassi a 30 frame. In ogni caso per quanto riguarda, ripeto questa fascia di prezzo, difficilmente si trova di meglio essendo molto economica. Per quanto riguarda il reparto delle fotocamere ha ben 4 obiettivi. Uno principale a 108 megapixel, una ultra grandangolare da 8, una macro a 2 e una frontale da 16. Per quanto riguarda l'obiettivo principale scatta dei bei scatti ed è in linea con questa fascia di prezzo. Devo dire ovviamente che la qualità può variare in base all'illuminazione e in luoghi ben illuminati i scatti sono notevolmente migliori rispetto a scene poco illuminate. Mentre invece per quanto riguarda l'ultra grandangolare e la macro, come capita nel 90% di smartphone, purtroppo i scatti non sono nulla di che. Ma allo stesso tempo vi devo dire che normalmente non si andranno a utilizzare. È molto raro, normalmente utilizzeremo soltanto l'obiettivo principale e la fotocamera frontale dedicata ai selfie. Per quanto riguarda quest'ultima ha ben 16 megapixel e la sua qualità è molto buono e anche superiore agli altri modelli che normalmente troviamo in questa fascia molto economica. Devo dire che gli scatti sono perfettamente utilizzabili ed è perfettamente utilizzabile anche per le videochiamate. Per quanto riguarda la sua batteria monta una bella 5000 mAh, quindi in linea diciamo con i smartphone di oggi. Arriva tranquillamente fino a sera con una buona percentuale e se non lo utilizziamo troppo possiamo anche usarlo per due giorni con una sola ricarica. Molto buona la sua ricarica visto che è presente una ricarica rapida da ben 33W, decisamente superiore rispetto alla classica ricarica tradizionale. Questa ci permette di caricare dallo 0 al 100% in poco più di due ore. Motorola Moto G 54 5G, uno dei migliori smartphone attualmente disponibili a livello di qualità prezzo. Direi di partire come sempre dal suo display, questo è un LCD IPS con risoluzione Full HD+, questa molto buona, è perfetta per questa dimensione dello schermo e non sempre disponibile su questa fascia di prezzo su tutti i modelli. Spesso si trovano anche risoluzioni più basse dove appunto l'immagine tende a essere sgranata. Aggiungo anche un refresh rate da 120Hz, molto buono, rende sicuramente la navigazione decisamente molto più fluida e bella al nostro occhio. Peccato diciamo per lo schermo LCD IPS, avrei preferito anzi un AMOLED come hanno fatto nello Xiaomi Redmi Note 12, che sicuramente avrebbe aiutato nelle situazioni più critiche, magari fuori casa, dove c'è molta luce magari da parte del sole, soprattutto d'estate. Per quanto riguarda le sue prestazioni, monta come processore un SoC Mediac Dimensity 7020. Questo funziona decisamente molto bene, è veloce, è scattante, è decisamente molto migliore della grande maggioranza dei smartphone disponibili su questa fascia di prezzo. Sicuramente è uno dei suoi punti di forza. Potremmo quindi utilizzarlo tranquillamente per navigare, social network, leggere email, senza avere alcun rallentamento. È possibile anche giocare ai nostri videogiochi, in alcuni giochi più leggeri è possibile anche sfruttare il 120fps, e su quelli shooter un po' più pesanti come PUBG e Fortnite potremmo comunque giocarci a 30fps locati, ma con le qualità grafiche in alto e in HD. Passiamo ora alle fotocamere. Per quanto riguarda la parte dietro, ha un sensore principale da 50 megapixel e un sensore dedicato alle macro da 2 megapixel. Per quanto riguarda la 2 megapixel macro, questa ovviamente è dedicata agli scatti ravvicinati, diciamo che purtroppo la qualità non è nulla di eccezionale. Mentre invece il sensore principale a 50 megapixel è decisamente molto buono per questa fascia di prezzo. Diciamo che a differenza degli altri per quanto riguarda la fotografia, durante appunto le condizioni di buone luce scatta delle belle foto, belle dettagliate, belle nitide, ma anche quando la luce scarseggia comunque le foto non perdono troppa qualità, dove molto spesso invece la maggior parte dei smartphone comincia a faticare. Anche una fotocamera frontale, quella dedicata ai selfie da ben 16 megapixel, molto buona per le foto e anche per le videochiamate, queste arrivano a 720p 30 frame rate. Molto buona anche la presenza di ricarica rapida, questa arriva a un massimo di 20 watt, non è diciamo altissima e rapidissima, ma sicuramente molto più veloce di una ricarica tradizionale, ma soprattutto è molto apprezzato il fatto che il caricatore è interno alla confezione e non va acquistato separatamente. Per quanto riguarda la capienza della batteria, questa è una 5000 mAh, ma il processore ha un ottimo risparmio energetico, che permette appunto di essere utilizzata tranquillamente anche per due giorni con una sola ricarica, ovviamente se non si fa un utilizzo intensivo e se non si stressa la batteria. Tutti i link sono qua sotto in descrizione, al prossimo video.